Siamoci qua, come avevamo promesso, vi abbiamo fatto un video prima di Natale Auguri di Natale! Quindi siamo alla sua vista e amici Siamo alla sua vista e amici E volevo fare gli auguri a tutti gli iscritti nuovi, vecchi del mondo Al capo di Youtube, al capo del mondo A tutti gli iscritti, a tutti gli iscritti Siamo arrivati a Reggendo! Grazie!